Bilancio farlocco al Comune dell'Aquila, che non tiene conto di milioni e milioni di debiti fuori bilancio, ignorati per far tornare i conti, e che ora però renderanno inevitabile l'intervento della Corte dei Conti. Ad assicurarlo il consigliere comunale dell'Aquila Città Aperta, Giorgio De Matteis, a cui replica, però, stizzito, l'assessore al bilancio Lelio De Santis, che assicura che tutto sotto controllo, quei debiti hanno già copertura con degli accantonamenti. Oltre a 6 milioni in fase di accertamento, catasse di fatture in evase e molte ingiallite dal tempo, tra i debiti, su questo tutti concordano, anche altri 6 milioni di euro delle utenze non pagate dagli sfollati del progetto case. A coprire il debito all'Enel sono state le banche, che ora abbattono Cassa al Comune, che dovrà sborsare rate da 250 mila euro al mese per i prossimi anni. Si trattava di un bilancio falso, quello che ci è stato apportato. Questa mattina, come era prevedibile, apprendiamo inopinatamente che siamo già a 6 milioni di debiti fuori bilancio, che stranamente, prima dell'approvazione del bilancio, non erano stati comunicati. E quindi, ovviamente, devono essere riconosciuti e graveranno sulle tasche degli aquilani. Quindi le grandi lodi che si è sbrodolato addosso il sindaco Cialente cadono in maniera miserabile già questa mattina, a 7-8 giorni all'approvazione del bilancio. Quei debiti fuori bilancio sono coperti già, perché il Comune ha accantonato con l'avanzo di amministrazione non i 6 milioni di cui si sta parlando che stanno per essere riconosciuti, ma 33 milioni. E poi c'è il nodo, debiti prodotti anche dai mancati pagamenti delle bollette al progetto casa. Ma questo è un debito che si è accumulato a seguito dell'amorosità. C'è stato questo contenzioso con tanti cittadini e con i comitati che invia di soluzione. E' chiaro che il debito che si è accumulato intorno a 6 milioni va onorato. Il progetto case e le case sono patrimonio del Comune.